Non l'hai visto, ma saranno burocrati, sono quelli che non fanno fare niente. Allora, a me... A me una cosa? A Matia. Come si chiama? Matia. Sì, vabbè, ma tanto se poi... Invece se ne sono accorti l'hanno spassata la macchina. Quindi... Io ho fatto la seguita. Sono immaginato. E questa è una domanda del sottopolo sul peggio del ruolo. Se ti piace farlo, non mi piace.